E' andata bene meglio al Chieti, no? Possiamo dirlo questo? Guarda, secondo me oggi è stata una partita che la squadra ha dimostrato carattere, perché comunque non devono essere mai degli alibi, però giocatori come Ardemagni, come Forgione, come Jabò, non è che li possiamo regalare. E' indubbio. Avevamo giocatori che domenica magari hanno giocato di meno, non hanno giocato e quindi oggi hanno avuto l'opportunità e l'hanno fatto discretamente. Non è che io la partita la porto sicuramente e noi veniamo per vincere sempre, ma solitamente queste partite le perdi, quindi oggi la squadra ha dimostrato di avere carattere, pur essendo in emergenza va bene così, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare con molta umiltà. Noi siamo una squadra che deve essere sempre umile, deve sempre dimostrare domenica dopo domenica, per la lunga, come ho sempre detto, si tirano le somme. Oltre ad alcune assenze pesanti che prima ricordava, può aver influito sulla poca brillantezza, almeno io l'ho vista così, fisica, anche la preparazione che ha effettuato il chiede? Bravissimo. Noi sapevamo, sappiamo che all'inizio dobbiamo soffrire un pochettino perché abbiamo caricato tanto. Lo sapevamo e quindi ne siamo consci di questo. Ribadisco, sicuramente il suo collega ha ragione, ma le grandi hanno vinto. Io sono dell'idea che si vede sempre alla lunga, si tira alla somma. Il cavallo si vede quando arriva, non quando parte. Quanto rammarico c'è, mister? Rammarico? Rammarico c'è, però abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Io l'avevo detto ieri ai giornalisti del luogo, la nostra non sarà un'avventura. Una squadra che sta crescendo, mi segue e questo penso che l'allenatore sia la cosa più importante di tutti. Ci siamo espressi bene. È chiaro che ancora qualcuno porta dietro quel debutto del provinciale, tra virgolette, non perché io sia un metropolitano, perché io vengo da un paese. Però quel rispetto, quella paura per un campionato importantissimo. Noi sappiamo quale sarà il nostro ruolo, quello che dobbiamo fare. Giocare partita su partita sembra una fase fatta, ma è così, sempre con la determinazione e con la voglia che abbiamo dimostrato oggi.